Questi anelli rappresentano il simbolo dell'impegno che... Ma insomma, Thomas! Scusate, scusate. Questione di vita o di morte, devi usare l'anello per salvarmi! Ora! Oh mio Dio! Oh cavolo! Arrivato! Ah, le Hawaii. Spero solo che non sia troppo tardi. Oh signore, ce ne sono due adesso. Che succede? Ok, la versione breve. Robotnik è tornato. Ho scoperto la fonte del potere definitivo. Dobbiamo recuperarlo, l'umanità è spacciata. Ha portato una specie di... Porco spino spaziale. Sono un guerriero echidna. Riccio. È ora di dire addio all'umanità! Benvenuti nella nuova era! Questo è il momento di diventare un grande eroe. Magari è un po' brutto dirlo, ma in realtà non ho un piano. Ehi, hai qualcosa sulla... Oh mamma. Qualcuno ha chiamato un Uber? Fa freddo qui dentro. Scaldiamo l'atmosfera. Oh grandioso, The Winter Soldier. Non temere, cittadino. Sei un incapace totale. Il tuo atteggiamento negativo non aiuta. Restiamo uniti. Ora più che mai. Sei incompetente. Raggiunti forte! Inadeguato. Indegno! Ne manca uno. Inarrestabile. 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 Grazie a tutti.